Ciao a tutti i gentuberi, Siaki e Tommy. Allora, andiamo a finire quel ponte e l'abbiamo venuti qua per, per cosa eravamo detto qua? Per le picche. No, per le lingue. Per il legno. Ah ma per le picche. Allora, finire tutto quello che abbiamo. Tutte? Tutte. Due. No, in buone condizioni. Tutte. 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 Yeah. Yep. Yep. No, non corro. Consumo trappassami. Va bene, se frega. Yeah. Boom, 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 boom. Dovevamo iniziare a scegliere cosa fare dopo questa custom. Beh, abbiamo quella con Detoni. Detoni ha detto che può registrare giovedì. Eh, però, quella lì è una custom app con lui. Poi dobbiamo fare un'altra con noi. Con noi. Con noi, con nostros. Con la nostra presenza e ogni la nostra presenza. Ah, è capito se deve essere chiaramente archeologico. Dai. Che suono un cazzo. Basta parlare del nostro progetto. Stiamo filmando, Tommy. Rispetta. Ehi, dammi il da chi. Quelli che ti seguono. Anche il falco. Entro io. Oh, paura. Sento ciò l'urla dei bambini che sono in fisico. È il covo. È il covo della peccora malvagia. Della peccora demonieta. È sicuramente il covo della peccora demonieta. Ok, non ti preoccuparti, mi scendo io. Eccola. Eh, no, è grigio. È il sole. È il sole. È il sole. Ma qua c'è qualcosa che non mi convince. Ehi, aspetta. E dai, è spazio. Guarda giù del torcio, c'è lì. Oppure... no, non niente. Ok, non si vedrà un cazzo. Guarda i cori. Sì, lo faccio qui. Ma qua c'è l'anderafabro strano invece che della storia. Ma qua c'è l'anderafabro strano invece che della storia. Sì, che c'è qualcosa. È l'isola, è la fila dell'isola. Boh, si chiedevi, è un pacco, ma tante. Non c'è il cazzo, però. Lei è che abbiamo finito di conquistare anche quest'isola. Il covo della peccora malvagia. Quindi, aspettate, finisci, andiamo direttamente in caldo. Andiamo, è l'altro. E quindi, è l'altro. Bisogna fare anche quest'isola perché non è trading questi ritori aiutari. Non è successo di una roba diga... Oh, voglio entrare in un area di mano. Oh, forse, perché... Eh, non ci sono i mob. o cazzo sta tirando giù il profano ehi non ti rompa le gambe davvero le sue gambine da pecora dove sei? ti voglio uccidere dov'è finita? è caduta? dov'è? dove? quelle a casa saranno spettatori di un evento paranormale che prima non c'era basta prenderla andiamo ok allora fermiamo la registrazione che fa la nuova strada e badabim badabum un piccolo passo per uomo un grande passo per gentumers tutto tace centro il carbone delle wine e qui cosa c'è? non c'è un cazzo nooo c'è un cazzo no però ci deve essere qualcosa oh non abbiamo scavato bene in un'isola c'è anche un'isola che vuole eh lo so però ah si è vero tanto va in un'altra quindi si probabilmente qua non c'è un cazzo qua c'è del carbone basta isola schifosa perdita di tempo ok è malaltra? si ah si l'ultima isola ultimo episodio alla prossima non sarà l'ultimo episodio perchè dobbiamo fare la costruzione finale comunque ragazzi mettete mi piace perchè sono gli ultimi sgoccioli di questa mappa epica lololololol ok basta ci vediamo alla prossima gentubre si va più Tommy alla prossima ciao